La pesca e l'autarchia. L'arrivo a Zara di tre tiro pescherecci che hanno svernato nei mari del nord fra i banchi di Terranova per la pesca del Merluzzo. A bordo di una delle navi ancorate nel porto, il prefetto di Zara ha letto ai marinai e agli armatori il telegramma di vivo elogio inviato loro dal Duce. Premio ambitissimo per questa gente che ha saputo resistere per ben 15 mesi a tutte le intemperie e ai freddi polari per cooperare al rifornimento ittico della patria.